Buongiorno a tutti e benvenuti al sesto episodio di Gtalks. Io sono Marco Burattino e faccio parte di Guideware. Una delle imprese maggiormente oggetto di conversazione e di studio nei corsi di business administration di oggi è sicuramente Netflix e lo è principalmente per un motivo, per aver dimostrato come si può con successo cambiare pelle più volte nel corso della vita di un'impresa. Facciamo un attimo un breve riepilogo di quello che Netflix è stata capace di fare nel corso degli anni della sua fondazione. Netflix nasce nel 1997 come un servizio simile a blockbuster che come unica differenza aveva l'invio a casa dei DVD su cui guardare i film. Dieci anni dopo nel 2007 in maniera assolutamente pionieristica Netflix decide di investire tutto sullo streaming e quindi non c'è più, cambia il suo modello operativo e non c'è più l'invio a casa dei DVD ma la possibilità direttamente proprio pc di andare a guardare il film on demand. Quattro anni dopo con House of Card altro cambio del modello operativo. L'azienda comincia ad investire in maniera massiccia sulla produzione di contenuti audiovisivi che sono ancora oggi la cifra principale che caratterizza il servizio della piattaforma. Infine nel 2019 nel corso di una intervista Reed Hastings il fondatore dell'azienda forse anticipa quello che sarà il prossimo cambio di modello da parte di Netflix quando rispondendo alla domanda su quali sono i competitor che teme di più dice che non ha tanta apprezzione a guardare a HBO o a Paramount ma teme più che altro Epic Games ovvero i produttori di Fortnite perché così come loro ma così come anche i servizi di streaming, punta l'attenzione a Hastings, siamo tutti in competizione per l'attenzione del cliente quindi non è tanto il servizio ma è qualsiasi cosa che sia capace di attirare l'attenzione del cliente. Ora lasciamo un attimo fermo questa introduzione su Netflix, teniamo a mente il concetto di cambiare pelle e il concetto di competizione per l'attenzione del cliente perché ci serviranno dopo. Oggi la puntata DigiTalk parla di Internet of Things. Nel corso del primo episodio DigiTalks avevamo messo a paragone gli sforzi che stiamo sostenendo tutti per diciamo combattere il cambiamento climatico e con un fenomeno invece che osserviamo tutti nel mercato assicurativo italiano che è la forte concentrazione industriale che sta avvenendo sia a livello di compagnie che a livello di broker. Due fenomeni che sono assolutamente diversi ma che hanno un fattore comune di riferimento che è la logica che spinge queste situazioni ad accadere ovvero una logica di sopravvivenza. Le assicurazioni si fondono, si uniscono, diventano più grandi perché hanno necessità di scala per guadagnare una posizione di centralità nei confronti del cliente, servirlo meglio e a 360 gradi. Perché come insegna Netflix e la citazione di Redusting precedentemente siamo tutti quanti in competizione per l'attenzione del cliente e i nostri competitor non necessariamente sono soltanto nel recinto delle compagnie di assicurazioni ma potrebbero venire dall'esterno. Chiunque osserva il mercato assicurativo negli ultimi anni sa quanto sia vera questa affermazione. Cosa c'entra allora l'IoT? L'IoT è fondamentalmente secondo noi la leva strategica principale per far sì che le assicurazioni possano conseguire quella centralità di cui parlavamo prima e lo è per quattro ordini di ragioni secondo noi. Per un tema di rilevanza ovvero per aumentare la percezione di valore da parte del cliente e per migliorare la quantità e la qualità di interazioni che la compagnia può avere con il suo cliente appunto. È fondamentale l'IoT per aiutare le compagnie a differenziare la propria offerta in un mondo come quello assicurativo in cui il rischio auto è sempre meno interessante e profittevole da un lato quindi serve andare a scoprire e andare a investire su altri settori, su altri rami di business assicurativo e anche perché l'IoT è una leva per accoppiare, affiancare alla polizza anche il servizio per rendere appunto l'offerta assicurativa più completa e più interessante. Alla differenziazione passiamo alla crescita profittevole da un punto di vista di top line perché nel momento in cui aumenta la differenziazione il prezzo non è più l'unica variabile su cui competere quindi diventa una grandezza che in qualche parte è controllabile dalle compagnie. A livello di bottom line l'IoT in molti dei suoi utilizzi può contribuire a trasformare l'assicurazione da un soggetto che rimborsa a un soggetto che previene. Infine ultimo ambito è la retention. La retention perché nel momento in cui l'offerta è più personale e differenziata è più facile creare dei meccanismi di loyalty rispetto al cliente e quindi è più facile che il cliente decida di restare insieme a una compagnia piuttosto che abbandonarla. Parliamo oggi di IoT insieme ad Alessandro Catanzariti, Head of Sales di Enhancer, Enhancer società dal marzo 2022 di proprietà del gruppo Tinexta. Enhancer è una società di user experience imprestata all'information technology. Ciao Alessandro, benvenuto e grazie di essere qui. Grazie a te Marco per l'invito. Quando ci siamo sentiti per preparare questa puntata, il tema era Internet of Things, ci siamo confrontati, siamo partiti dal dire ok, confrontiamoci su quella che è la definizione che diamo del concetto di Internet of Things prima di tutto. Ed è stato divertente perché io, forse nel retaggio professionale storico, ho cominciato a cercare di schematizzare per Bullet l'argomento dicendo ok, IoT per noi vuol dire qualsiasi oggetto è in grado di fornirmi dati che io posso misurare e che poi io posso, sulla base di questa misurazione, posso anche intervenire su quell'oggetto disciplinando un comportamento delle cose che dipendono da quell'oggetto, dell'oggetto stesso. Che è una definizione probabilmente un po' articolata, un po' macchinosa eccetera, quindi la domanda successiva sta qual è la tua definizione? Tu mi hai detto semplicemente Marco per noi l'Internet of Things ti consente di trasformare qualsiasi prodotto in un servizio. Il che mi ha affascinato, mi ha lasciato quella sensazione bella di dire ah una cosa semplice e non sono sicuro al 100% mi abbia convinto del tutto, però in questi giorni ci ho pensato dicendo ah, alla fine è una cosa che assomiglia anche a quella che potrebbe essere declinata come una delle definizioni del digitale, insomma comunque è interessante, mi ha colpito e quindi ti chiedo di spiegarmi cosa intendi un po' più e quindi magari anche di convincermi sulla tua definizione. Proverò a convincerti. Allora sicuramente noi crediamo all'interno di Nanser che l'IoT sia una delle tecnologie abilitanti della digital transformation su cui da tempo abbiamo deciso di scommettere. Fondamentalmente quando ti ho detto che l'IoT può trasformare ogni prodotto in servizio è perché il concetto in qualche modo che vogliamo visualizzare è anche l'estensione delle capacità di un prodotto. Tutto sommato quando tu ragioni su un prodotto fisico ti devi confrontare con la sua limitatezza fisica sul fatto che per esempio quando lo consegnerai, immagina di consegnare una sedia, quella sedia rimarrà immutata nel tempo e non potrà essere in qualche modo fatta evolvere. Invece ovviamente un prodotto software dall'altra parte diciamo del tavolo vive in maniera evolutiva. Ecco se vuoi l'IoT è un po' la tecnologia ponte che permette di fare entrambe le cose. Dall'altro consegnare qualcosa di fisico, un presidio presso il cliente, dall'altro farlo evolvere nel tempo. Quindi il fatto che si possa in qualche modo ragionare in termini di servizio sul prodotto è proprio legato a questa sua peculiarità che evidentemente altri tipi di tecnologie non hanno. Detto questo evidentemente poi si innesca un meccanismo abbastanza automatico, cioè noi pensiamo che le persone a tendere smetteranno e lo vediamo su alcuni modelli pay per use di comprare per forza l'oggetto fisico. In verità compreranno l'esperienza associata a quell'esperienza fisica. Oggi lo facciamo col car sharing, lo facciamo con tutti quei servizi dove non è più prevista la logica del possesso. Esistono evidentemente anche delle studi che raccontano come alcune generazioni, tipicamente i millennials ancora più la generazione Z, sia particolarmente attenta a questo tipo di ragionamento che va anche tra l'altro ad impattare su tematiche di sostenibilità perché si va a ridurre fondamentalmente la circolarità dei beni e si va a vendere solo la logica associata. Le aziende alcune hanno già colto questo tipo di opportunità, peraltro è più difficile, perché immaginiamo per esempio un mondo come quello industriale, deve rinunciare concettualmente evidentemente a vendere magari un bene che ha un valore unitario finanziario elevatissimo per vendere i cicli di produzione associati a quel bene. Ecco, questo tipo di ragionamenti poi alla fine deve essere mediato e trasformato attraverso delle soluzioni dei prodotti digitali e qui se vuoi di nuovo c'è un momento di contatto tra il concetto di prodotto che tipicamente se adesso noi scendiamo in strada e chiediamo le persone che usano il prodotto e loro cominciano a declinare una serie di prodotti fisici. Ma il prodotto può essere anche digitale, in quel caso il valore non è più associato agli atomi che compongono quel prodotto fisico ma i bit su cui è costruito quel prodotto fisico. C'è un interessante schema che spesso tiriamo fuori e qui ci confrontiamo, un grafico che arriva da un libro che si chiama l'inevitabile di Kevin Kelly. Kevin Kelly è il fondatore di Wired negli Stati Uniti. Lo cito spesso qui. Perfetto, e questo grafico racconta come il valore associato di PIL ai chili di massa prodotto partendo dal 1870 con dei dati rilevati dal Ministero dell'Industria americano ha subito un fortissimo cambiamento. Quindi nel 1870 tu producevi un chilo di massa e avevi 25 centesimi di dollaro di prodotto interno lordo. Verso 1930 si arriva la parità, il telegrafo, la stampa, la borsa. 1977, il primo PLC in ambito industriale del 1968, attenzione. 1977 M2M, machine to machine, il papà dell'IoT, un dollaro e trenta di valore per un chilo di massa. Due mila, tre dollari e venti. Poi il grafico si ferma. La domanda che ci facciamo sempre è quanto pesa Google? Google praticamente non pesa niente, eppure produce revenue e come dire anche da interessanti. Ecco, se vuoi questo è un po' il ragionamento, quindi prova a spostare il focus dalla fisicità a quello che in verità tu puoi abilitare con uno strato fisico, ma è molto di più quello che sta sopra lo strato fisico rispetto a quello che sta sotto. Grazie. Quindi diciamo alcune cose sono abbastanza evidenti, facevi l'esempio del car sharing, ma te ne dico di più, cioè io da un po' di tempo anche diciamo nell'utilizzo dell'autovettura secondo me il business case di un noleggio a lungo termine è già di per sé vantaggioso rispetto all'acquisto di un'auto. Però mi interessava con te andare a guardare sulla base delle vostre esperienze, visto che per voi l'IoT è centrale nella missione aziendale, se ci sono degli esempi diciamo che magari oggi sono non tanto discussi, quindi la frontiera per farci capire quello che sta per arrivare o quello che verrà, quello che sarà protagonista dei prossimi tempi, no? Ma allora, in primis c'è da dire una cosa, esistono tanti framework nel lavoro diciamo di chi progetta, perché fondamentalmente quello che fa in answer è progettare esperienze digitali e poi decidere come applicarla secondo il punto di vista del contesto. Esiste un modello che spesso di nuovo noi citiamo, che è il modello di Canon, che racconta che fondamentalmente dal punto di vista delle funzionalità di un prodotto c'è una logica evolutiva che è anche tra l'altro quella che dovresti mettere in campo quando decidi di lanciarlo, quindi decidere di dividere le funzionalità di un prodotto fisico-digitale in funzioni basiche, funzioni performance e funzioni come dice anche nel gergo oggi, funzioni wow. Di nuovo un esempio, prendiamo una macchina, 30 anni fa, 40 anni fa, un po' di una funzione come dire performance o addirittura wow, potevano essere i finestri elettrici o l'aria condizionata, oggi quelle sono funzioni basiche e così nella logica dell'auto che insomma parla un po' a tutti, il navigatore satellitare, oggi gli ADAS e via discorrendo, quindi la tecnologia si sposta, ciò che era wow diventa performance, ciò che era performance diventa basico. Allora, per provare a fare un parallelo, l'IoT nasce sicuramente, come lo conosciamo oggi, in un contesto principalmente consumer, si chiamava domotica qualche anno fa, adesso si dice smart home. Tutto il mondo della casa connessa, tutto il mondo dei wearable, che di nuovo impattano su un consumatore utente finale, quindi su un ambito B2C, stanno già avendo una forte rilevanza. In fondo oggi, se pensiamo a uno smartphone, uno smartphone è assolutamente un oggetto IoT. Le due frontiere secondo me più promettenti, secondo noi più promettenti sono sicuramente da un lato la parte ELF, che tra l'altro si lega moltissimo con tematiche assicurative, ma una forse meno investigata e altrettanto interessante è l'ambito di produzione, quindi il mondo del manufacturing, che è un mondo che ha dei cicli produttivi molto serrati, che ha necessità di un tema di resistenza alle problematiche, quello che di nuovo in gergo si chiama l'uptime, cioè garantire che se tu hai una linea di produzione, che produce capsule per il caffè, che produce componenti, che produce materiali che a volte magari stanno in un'altra supply chain, quindi c'è profonda integrazione, ecco tu ti devi garantire quell'uptime, no? Questo lo capimmo in verità inizialmente in un settore sempre di produzione, ma molto più tradizionale, per retaggio, ma tradizionale tecnologicamente non è, che è l'agricoltura. L'agricoltura di precisione, che di fatto è l'evoluzione oggi dell'agricoltura, oggi al mondo meno del 2% delle persone sono impegnate in ambito agricoltura, ma la produzione assolutamente a volumi mai toccati dal genere umano, fa molto affidamento all'IoT, perché? Perché se l'uptime è importante in una fabbrica che produce tappi, pensiamo quanto è importante in una fabbrica che deve tagliare il grano, lì non si può decidere di rischedulare, si taglia in quel periodo dell'anno o non si taglia più. Quindi la garanzia dell'uptime è fondamentale, l'IoT è in grado di in qualche modo aiutarti, perché gestisce tanti parametri, per esempio il meteo, la qualità della manutenzione dei veicoli, la presenza di problematiche all'interno del campo con sensoristica, quindi diciamo l'ambito di produzione per essere più vasti, in cui poi il manufattore industriale è una diciamo sottospecie se vogliamo, ha forti bisogni oggi di IoT perché ha bisogno non tanto di predire, quello è un altro tema, la manutenzione predittiva, ma in qualche modo di raccogliere puntualmente e visualizzare nel momento opportuno alcuni dati e l'IoT trasforma di nuovo un prodotto, un trattore, una pressa in un servizio, produce un outcome, taglia il grano piuttosto che produce non so una lastra o uno scatolato. Nell'ambito assicurativo, trascinando un po' questo concetto nell'ambito assicurativo, fermo restando che alcune delle cose che dici tipo in agricoltura sono già realtà, assolutamente, anche da un punto di vista di consumo assicurativo, però uno degli spiragli, sai il mercato delle assicurazioni cerca anche nuovi ambiti di sviluppo, uno degli spiragli probabilmente più promettenti è proprio quello di cercare di aggredire il mondo delle imprese, se vai oggi sul sito di una qualsiasi compagnia di assicurazione vedi l'offerta privati e imprese, l'offerta imprese è tagliata un po' con l'accetta sul settore merceologico. Ragionamenti come quelli che stai dicendo ti consentono probabilmente di specializzare, offrire un servizio a maggior valore e quindi magari penetrare anche assicurativamente questo tipo di mercati. La domanda che vorrei farti, anche sulla base di quelle che sono i potenziali di sviluppo futuro, io personalmente vedo molto l'utilizzo dell'IoT quasi come una questione diciamo esistenziale per le assicurazioni, quasi una questione di sopravvivenza, appunto per cercare di trovare nuovi mercati a valore. Cosa ne pensi da questo punto di vista? Secondo te ci sono settori che hanno già oggi l'evidenza del fatto che senza IoT non sopravvivono e quanto vale? Cioè questa cosa esiste anche per le assicurazioni in prospettiva secondo te o no? Per la prima domanda, cioè se esistono delle industrie che ormai non possono fare meno dell'IoT, beh sicuramente tutto il mondo della telematica, che di nuovo è poi la telematica, la domotica, sono vecchi nomi che davamo a delle tecnologie che non fossero mature ma che avevano un focus molto specifico. Una cosa che come dire in qualche modo sta emergendo chiaramente e ne parliamo di nuovo spesso è il tema della consumerizzazione, cioè per tanti anni l'industria ha guidato l'evoluzione tecnologica, c'era il mondo degli hobbisti, c'era il mondo dell'industria, c'erano gli ingegneri, poi alcune di queste tecnologie si trasferivano nel mondo consumer. Per esempio classicissimo, le lista di tecnologie portate dalla NASA con l'Apollo 11 sulla Luna che poi sono diventate di uso comune di qualsiasi tipo. Ecco, dal 2000 e dal 2007 con gli smartphone il paradigma si è invertito. Adesso questo sì che lo possiamo chiedere all'uomo della strada. Quali sono le aziende tecnologiche? Non sono più le aziende di ingegneria industriale, esatto, aeronautica, militare. Di nuovo Google, Facebook, Amazon. A volte è anche un po' come dire, prima ne parlavamo, non davanti al caffè, qualunquistico pensare in maniera astratta che qualsiasi cosa la risposta è Amazon. Però è vero, ma perché? Perché hanno di nuovo lavorato su un tema di interazione, su un tema di servizio prima ancora che focalizzarsi sulla tecnologia. Allora sicuramente sono delle industrie come quelle che citavamo, tutto il mondo del fleet management, le aziende sanno benissimo cosa vuol dire avere magari due o trecento auto in gestione presso i propri dipendenti. Sicuramente oggi la sanità sta prendendo una direzione concreta sull'aspetto IoT. Ascoltavo stamattina che è aumentato da 34 a 37 miliardi in un anno l'out of pocket per la salute e negli ultimi tipo 5 anni 10 miliardi, quindi numeri assurdi. Ovviamente il Covid ha in qualche modo messo il faro su una tematica come quella del benessere, dell'elfo, ovviamente tutto il tema anche delle strutture pubbliche, ospedaliere, della pressione che c'è stata. Tornando un po' al tema del manufacturing, che vediamo un po' come se vuoi una cosa magari particolarmente di nicchia, ma che di nicchia non è perché i volumi sono molto importanti. Ecco, un'opportunità per l'assicurazione è sicuramente quella di ragionare, di proporsi nei confronti di un cliente company, un cliente corporate in ambito industriale, non solo come la società che ti assicura il downtime, ma come la società che grazie all'IoT costruisce anche dei modelli sia utili per la previsione interna, quindi tutto il tema del pricing, beh io se comincio a raccogliere dati posso fare dei pricing molto puntuali, posso andare verso la tailored insurance, quindi posso costruire un'assicurazione che è molto ritagliata sui tuoi bisogni, visto che prima dicevi che invece giustamente oggi le tagliano con l'accetta, e allora lì si possono aprire tanti sottomondi, perché poi alla sua volta il manufacturing, un'azienda che stampa lamiera è molto diversa da un'azienda che fa assemblaggi, ma sempre aziende di manufacturing sono, e in qualche modo aggiungo un tema che era anche già emerso in qualche nostra chiacchierata, che è quello della presenza fisica. Cioè l'assicurazione è percepita sempre, giustamente o meno, come qualcosa di intangibile, che si palesa in dei momenti molto specifici, che per lo più tra l'altro non sono associati a un piacere, ovviamente per il mondo consumer, ma questo può andare anche per le aziende, quindi la devi pagare, la devi rinnovare, la devi attivare se hai un claim, quello che noi diciamo è il setup and forget it. Allora, sempre più le assicurazioni sono consapevoli di non essere praticamente, di essere praticamente inesistenti nella journey, questo le espone a un tema di churn rate, quindi le persone cambiano, non come nel mondo della telefonia, ma lo scenario è quello, lo vediamo oggi nelle utility, lo switching è altissimo, perché la gente continua a cambiare il fornitore per tematiche anche di offerte commerciali, e allora, come dire, materializzarsi presso il cliente attraverso anche un'infrastruttura IoT collegata a un asset produttivo e utilizzare in maniera, come dire, bivalente, da un lato imparo e sono sempre più puntuale nella mia proposizione commerciale, dall'altro divento sempre più rilevante, quindi tu fai fatica a togliermi dal tuo, come dire, dalla tua bill of material dei costi aziendali. Ecco, queste sono due cose che se incrociate, con un'ottima user experience aggiungerei io, perché sennò poi le persone hanno delle cose e non riescono ad usarle, ecco, questo potenzialmente può far sì che l'IoT diventi molto rilevante per il comparto assicurativo. Hai toccato in maniera tangenziale un argomento che mi è molto caro e di cui vorrei parlare ora. Parlavi prima del fatto che le assicurazioni potessero usare l'IoT come modalità per arricchire, fare tailoring della propria offerta verso le aziende, ma in generale verso qualsiasi. Hai toccato anche i settori che già oggi, in questo momento, sono più promettenti, esempio appunto della salute, eccetera. Un tema che a me è molto caro e sul quale io scommetterei e anche da cliente futuro è quello che io chiamo prescrittività, ovvero la possibilità da parte di un'assicurazione, quasi come fosse un soggetto di educazione civica, di influenzare i comportamenti, di arrivare a raggiungere, a collaborare per il raggiungimento di determinati obiettivi. Posso fare delle provocazioni che magari possono sembrare stupidaggini, ma secondo me non sono molto lontane. La gestione del dimagrimento, che è un aspetto di salute, ma che oggi noi consideriamo più un aspetto, diciamo, di vanità individuale, ma la gestione è il peso. Certo. È un concetto che secondo me è molto più gestibile con un approccio da assicuratore che non con un approccio, diciamo... Da personal trainer. Esatto. Oppure un'altra cosa, l'auto è iperpenetrato, ormai si può dire che un'assicurazione senza scatola nera, diciamo, ha sicuramente meno prospettive di utilità per un consumatore rispetto a una con la telematica, però magari potrebbe avere un ruolo anche nella gestione dei flussi di traffico in un futuro, no? Come appunto capacità di prescrivere comportamenti. Nella conversazione invece, ecco, il mio nome era poco appealing, era prescrittività, il tuo era behavioral change. Quindi volevo capire se nelle vostre esperienze ci sono touch point con questo concetto, se ci si sta avviando anche nei confronti delle vostre conversazioni in ambito assicurativo, verso un mindset che prende in considerazione anche questi obiettivi che magari oggi non sembrano così vicini. Certo. Ma allora, sì, ovviamente ci sono queste direzioni. Va fatto però un disclaimer iniziale molto chiaro. Cioè le aziende, tutte, che decidono di, come dire, perseguire questa strada non la possono ragionare come una logica di pura proposizione commerciale. Cioè devono ritenere, come dire, un valore questo tipo di attività e decidere, ovviamente in maniera ponderata ed equilibrata, di farne anche un investimento. Ovviamente non a perdere, però un investimento non a brevissimo termine. Mi spiego perché. Se io voglio veramente lavorare sulla componente di behavioral change, cioè se io voglio veramente in qualche modo riuscire a non, come dire, modificare, ma in qualche modo consigliare, no? Tutta una tematica fortissima di libri di questo tipo, forse il più famoso è The Nudge di Taylor e Sunstein, che ci hanno vinto pure un premio Nobel per l'economia. Cioè voglio dare una spinta gentile verso dei comportamenti che ritengo virtuosi, senza che ciò diventi né un obbligo normativo e senza che ciò diventi, come dire, 1984. Esatto. E tantomeno che diventi un puro gioco di fai questo perché ti do questo, perché quello poi è un tema invece più di reward, che ha a fare con la loyalty del marketing. Certo. Allora devono decidere di costruire dei modelli in cui questo valore lo erogano a prescindere. E qui si apre tutto il mondo di quei servizi che tu puoi usare anche senza essere cliente. Quindi qui sta un po', diciamo, il disclaimer delle assicurazioni. Se vogliamo parlare ovviamente di assicurazioni come giusto che sia oggi, devono cominciare a immaginare dei modelli in cui loro offrono del valore, prima ancora che quel utente sia un cliente. Quindi in mezzo al prospect e cliente si deve inserire una nuova figura nella journey commerciale dei difficili marketing che è lo user, active user. In verità genera valore, come vedremo, perché genera dati e consapevolezza. Detto questo, per arrivare poi puntualmente al tema, diciamo, di come provare a dirigere, orchestrare i comportamenti delle persone con questo taglio che ho appena descritto. Allora, ci sono alcune esperienze anche interessanti che arrivano dal mondo scandinavo. Noi nel 2009, Enhancer non esisteva ancora nella sua forma attuale, fu fatto un progetto da alcune persone chiave oggi di Enhancer in Finlandia, finanziato dal Ministero dell'Ambiente, che mirava a rendere consapevoli gli utenti dei loro comportamenti energetici e in qualche modo costruire su questa consapevolezza un reale effetto di saving dei consumi. Perché evidentemente, come sappiamo, paesi dove sei mesi l'anno è buio, sei mesi l'anno c'è la luce. Quindi, come dire, i comportamenti e quindi i consumi sono molto polarizzati, visto che abbiamo veramente due momenti di stacco importante. Allora fu deciso, attraverso un'attività, il fatto di service design, qualcosa che tra l'altro nel mondo anglosassone e ovviamente quindi anche in parte in quello scandinavo è molto diffuso. Cioè, in Italia quando si progetta un servizio sanitario, che vuol dire come acceda a un ospedale, tipicamente si prendono in considerazione aspetti importantissimi, molto legati alla disciplina, ma non si prende una persona che si occupa di human center design. In Inghilterra c'è un dipartimento che fa service design e lo applica poi in un contesto ospedaliero, in un contesto come si pagano le tasse, come ci si rapporta con l'APA. Quindi detto questo, fu fatta un'attività di ricerca etnografica e fu messo un schermo all'uscita della porta di casa. Quello schermo raccoglieva delle informazioni molto basiche, come il meteo, una temperatura che c'era in casa in rapporto alla temperatura fuori. Qual era l'obiettivo? Era dare dei consigli basati su due aspetti. Uno, uno stimolo esterno. Era presente anche una cosiddetta leaderboard, una classifica che, come dire, in qualche modo informava l'utente di chi era nel suo quartiere, e quindi c'era anche un tema di estrema prossimità dei propri pari. Chi era nel suo quartiere l'utente più virtuoso per consumo energetico, quantità di ore, di utilizzo dell'energia, numero di luce accese in casa. Era il 2009, non c'era molto IoT, quindi c'era anche una forte componente di dante elettri manuale da parte degli utenti. Però l'idea era stimolare le persone a mettersi in competizione con dei pari, su un aspetto che era quello fondamentalmente di base di sostenibilità. Oggi ESG è un termine estremamente, come dire, di moda. E far sì che questi comportamenti in verità poi, da un aspetto più quasi di gaming, diventassero poi degli aspetti acquisiti. Quindi ecco lì la spinta, il nudge era ti porto a fare dei percorsi e poi cerco di far sì che questi percorsi diventino una tua abitudine. Una cosa al volo, un flash finale, ultimo, perché quando ne avevamo parlato mi avevi anche raccontato, eravamo partito dalla citazione di Draghi che diceva cerchiamo di trasformare la casa in un luogo di cura. Questo è un tema assolutamente attuale rispetto al mondo del 2022, l'Italia, i problemi che abbiamo avuto nella gestione della pandemia inizialmente e questa è una delle cose che senza IoT non ha gambe, cioè non cammina, non va da nessuna parte. Cioè volevo quindi avere una tua chiosa su questo prima di chiudere. Hai detto una cosa molto corretta, cioè se noi pensiamo che la casa sia il principale luogo di cura, citando proprio da Verbatim di Draghi al Senato, e che quindi la casa debba diventare il luogo dove le persone, compatibilmente al tipo di patologia, si possono curare all'interno diciamo delle mura domestiche in un contesto chiaramente confortevole, beh l'IoT è necessario in maniera direi quasi vitale. Perché sennò diventa fondamentalmente, alzo la cornetta e mi faccio assistere da un medico e quello chiaramente è un retaggio più novecentesco. Allora, le aziende private e pubbliche hanno assolutamente chiaro questo aspetto. Noi stiamo portando avanti dei progetti di remote clinic con l'idea chiaramente di permettere a delle strutture che sono spesso sotto pressione e che tra l'altro vivono un aspetto di picco, di sgravarle invece di quelle diciamo battente continuo di cronici, che poi il progetto ha molto a che fare con la cronicità di alcune malattie, chiaramente non estremamente gravi, ma che comunque a volte prevedono che ci sia un recovero, che ci sia una serie diciamo di controlli continui. Ecco, mettere quelle persone presso le proprie case e dotarli di un ambiente, un environment come si dice nel mondo digitale, no? Un ecosistema tecnologico fatto di applicazioni, touch point, punti di contatto, l'utilizzo che abbiamo fatto in maniera spasmodica è ormai sdoganatissimo della telechiamata, diventa la televisita. quindi è evidente che tutti noi ci ricordiamo almeno un paio di casi in cui siamo andati da un medico per un problema e il medico giustamente ha ragione, ci ha fatto una visita, un'ispezione completa. Più che l'altro abbiamo fatto una chiacchierata. Allora quella chiacchierata lì, che non sarà il 100% delle visite, ma magari è il 30, 40, 20 secondo delle tipologie delle discipline, quella io la sposto dentro la televisita. Tra l'altro mi porto a casa un sacco di valore perché comincio a raccogliere delle numeriche, comincio a capire l'impatto che riesco in qualche modo a disinnescare rispetto alla struttura fisica, dedico la struttura fisica a dei bisogni più puntuali e urgenti, quindi in qualche modo non mando nemmeno in conflitto i pazienti a seconda delle loro esigenze, quindi anche tematiche di coda, di tempi di attesa, e l'IoT chiaramente può ulteriormente potenziare questo aspetto digitale, di fatto raccontando alcuni aspetti legati ai parametri. I wearable sono diffusissimi, direi da quelli più consumer esattamente, a quelli che devono essere dispositivi medici certificati, ma non è nulla se non un percorso, cioè la certificazione non è un problema, è solo un tema di architettura poi T. E l'esperienza che progetti, che in qualche modo fa la differenza tra il servizio di successo è quello che frana miserabilmente. Bene, grazie mille, una conversazione lunga ma interessantissima, quindi ti ringrazio. A voi. Spero che sia stato di vostro interesse, vi do appuntamento alla prossima puntata, grazie.